Il Piccolo Principe Il narratore incontra un giovane fanciullo che gli dice di essere un principe proveniente da un altro pianeta e di aver incontrato vari personaggi che gli hanno insegnato tante cose. Leggilo perché si mette in evidenza l'amicizia e che il tempo che gli dedichiamo agli altri li rende così importanti.